Chi ha detto figli? Non vuoi di kudumars? Robi di massa. Dai, Fabio assaggiati almeno. Non gli ho neanche toccati. Fabio, perché non mangi? Kudumars? Loro sì che sono kudumars, che non fai bene mai per furlare con i figli. Se tu fai bene furlare con i frussi, impari migliori le lingue e si può attendere un patrimonio culturale unico. Fabio, cerchi a manco! Qui calza il furlano al sa di plui.